La Versa ha finalmente scelto. Così come molte altre società che in questi giorni si stanno affrettando per coprire il buco in panchina che riguarda il tecnico, anche il presidente Spezzaferri ha sciolto il Rebus affidando la guida della squadra nella prossima stagione a Nicola Romaniello, ex centrocampista e capitano de Granata, ora un mister deciso ed entusiasta di incominciare la sua nuovissima avventura dopo essersi procurato il tesserino d'allenatore a Coverciano. Torna a casa accolto calorosamente dalla sua gente che crede in lui e spera di poter centrare gli obiettivi che insieme con il presidente saranno fissati prima dell'inizio della nuova stagione. La prossima Lega Pro però potrebbe rilevare delle sorprese. In queste ore è fissato un appuntamento tra il massimo dirigente della Normanna, il presidente della Casertana Verazzo ed il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio. L'obiettivo è quello di portare il campionato di seconda divisione a Caserta, facendo di fatto scomparire il calcio allo stadio Bisceglia, ma riproponendolo all'ombra della reggia con un nome che rappresenti sia la casertana che la versa. Se nell'incontro di oggi saranno gettate basi positive con l'impegno a collaborare per il bene della città, si darà il via ad una trattativa simile a quella che la scorsa estate fece esultare prima e piangere poi i tifosi di terra di lavoro. Per trovare l'intesa è necessario mettere a posto alcuni tasselli, a cominciare dai lavori allo stadio Pinto, che comunque sono già stati promessi dal primo cittadino di Caserta. Sicuramente è qualcosa che alimenta la speranza dei supporters dei falchetti, ma sarebbe un'ingiustizia deludere nuovamente le loro aspettative. Volare basso dunque in attesa di qualche certezza.